Parte a Città di Castello il nuovo sportello polifunzionale, un progetto che verrà poi applicato in tutto il territorio provinciale, promosso appunto dalla provincia di Perugia, un progetto che vuole realizzare il decentramento degli uffici a portata di cittadino. Presidente Marco Vinicio Guasticchi, questo progetto è un punto di partenza o un punto di arrivo per la provincia? È un punto di partenza ovviamente perché abbiamo rielaborato tutto quello che è stato poi un'azione svolta anche dalle passate amministrazioni, ma che vedevano dei modelli separati, ovvero tanti uffici decentrati, più di 75, con un dispendio notevole di risorse e anche di soldi. Quindi abbiamo elaborato in un anno questa nuova strategia, 18 grandi sportelli multifunzionali nei territori, due per comprensorio, in grado di dare risposte complete ai cittadini, ovvero un cittadino che non è più costretto a frequentare tanti uffici, può venire a Perugia addirittura per avere delle risposte o certificazioni, ma tramite questi sportelli diventano multibrand, ovvero multiservizio. Per quanto riguarda la viabilità, i autotrasportatori che devono richiedere i permessi per i carichi pesanti, non si dovranno recare più a Perugia, ma basta che vengano qua, allo sportello di città di Castello, dove faranno richiesta e lì sarà rilasciata l'autorizzazione. Io mi occupo anche di idraulica e anche qua, per quanto riguarda gli attingimenti per gli agricoltori, le licenze per l'attingimento, non dovranno più andare a Perugia, ma verranno qua a questo sportello e qua verranno rilasciate le autorizzazioni. Grazie a tutti.